Musica Per la prossima settimana fate la ricerca che vi ho assegnato Prof, e ora come faccio comunicare a tutti i miei compagni? Dovremmo costruire una piattaforma online, come ad esempio un blog Ah, bello! Potremmo chiamarlo My School Blog, così tutta la scuola potrà partecipare Gli studenti della nostra scuola vorrebbero costruire un blog, deve sviluppare le proprie idee e deve condividere tante informazioni, foto, immagini Per fare questo ci serve il vostro aiuto, perché dobbiamo imparare a programmare con il computer e lavorare nelle bellissime immagini, in vero Tutto quello insomma che serve perché hanno un bellissimo blog Lo proviamo a fare così Vediamo se una funzione Perfetto! Funziona! Ci puoi dare 5 Ci puoi dare 10 Ci puoi dare 20 Ci puoi dare 50 Ci puoi dare 100 Eterna Anche Twitter! A presto A presto